Daniele Del Nero, 48 anni, piccolo imprenditore, vive a Sorgnano con la moglie e la figlia. Ha deciso di candidarsi col Movimento 5 Stelle per dare testimonianza di come un cittadino davvero desideroso di cambiamento, pur senza un passato d'attivista 5 Stelle, possa aver individuato nel Movimento lo strumento più adeguato per poter finalmente pensare a un modo diverso di amministrare la città. Sogna con De Pasquale Sindaco di lasciarsi alle spalle tutte le occasioni perse che hanno reso Carrara una città abituata a vivere al di sotto delle sue possibilità.